Una giornata intera dedicata alla sensibilizzazione e all'informazione sui problemi fisici e psicologici legati all'obesità. A confronto al polo universitario Rita Levi-Montalcini di Asti, medici, psicologi ed esperti di tecnologia alimentare di fronte ad una platea composta per lo più da giovani studenti delle scuole primarie della provincia, organizzatori e presidenti del simposio Giorgio Calabrese, medico nutrizionista e Claudio Ligresti, chirurgo estetico. Un ragazzo su dieci è potenzialmente obeso e questi importanti dati ci hanno un po' indotto a organizzare io come presidente insieme all'altro presidente, il professor Giorgio Calabrese nutrizionista, questo evento. Di organizzare una cosa così non è semplice e soprattutto ho cercato e cercherò insieme al professor Calabrese di lasciare un messaggio molto importante che è quello che non basta il gruppo multidisciplinare tipo medico, occorre la collaborazione con le istituzioni, la collaborazione con le scuole, con le famiglie, tutti insieme cercheremo di stilare un documento ufficiale che verrà consegnato alle mani del sindaco di Asti affinché lui possa poi monitorare lo stato dell'arte e dell'obesità almeno nella nostra città. Poi vediamo se queste cose andranno oltre e arriveranno anche a livello regionale e a livello nazionale. Un convegno come questo ci dà una possibilità, iniziamo all'interno di questo convegno con una cosa molto carina, cioè abbiamo una lezione magistrale che ci dice in effetti qual è il sentimento degli scienziati del cibo che si preoccupano di darci un cibo che possa essere qualitativo o comunque rispondendo alle esigenze di noi clinici e seguendo il discorso appunto della condizione del cibo che ci arriva sulle tavole abbiamo bisogno di fare un'altra cosa, abbiamo bisogno di dare una regola che sia generale dieta mediterranea ma personalizzata perché ognuno di noi se uno zappa la terra grazie a Dio e se l'altro fa soltanto l'intellettuale pur essendo padre e figlio, marito e moglie hanno comunque un'esigenza metabolica diversa, hanno bisogno di avere un introito calorico diverso noi oggi stiamo lavorando non per familiarizzare con le pillole e gli integratori ma con i cibi che contengono le sostanze che sarebbero nelle pillole da integratori cioè per essere molto chiari, l'obesità deriva non solo dal mangiare molto ma dal mangiare male dal mangiare in un modo a volte che non ci appartiene culturalmente e che ci crea dei problemi soprattutto all'intestino dove c'è il microbiota